Bella ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Creativerse Come nello scorso video vi chiedo di lasciare un bel mi piace perché sono sicuro che questa sera vi è un piacere Però un'altra cosa devo dirvi, purtroppo sono partito e quindi video pre-registrati non sono riuscito ad editarli al meglio Quindi se vedete dei pezzi morti scusatemi veramente tantissimo Da lunedì, anzi da martedì, mercoledì in poi non succederà più Quindi ragazzi vi lascio l'intro e vi lascio qualche secondo per mettere un like Da Marci è tutto, bella Marci burlone Buon ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Creativerse Siamo nel secondo episodio ragazzi dopo che il primo episodio vi è piaciuto veramente tantissimo Sono contentissimo, non me l'aspettavo sinceramente di avere un riscontro così positivo Ragazzi ho trovato un'altra crafting qua, come notate Perché ho visto che questo posto mi piace un pochino di più Ora speriamo un attimino in bene che Mettiamo un attimo, no la posto non la metto, scusate ho sbagliato Game option, volevo farvi vedere una cosa Mi avete detto che si possono cambiare le visuali Però adesso non voglio fare cazzate varie Quindi evitiamo, dai evitiamo ragazzi Poi me lo scrivete meglio se c'è qualcos'altro Anyway, possiamo craftare varie cose Perché Oh Cosa è quella cosa lì? Oh non l'avevo vista Cazzate F Ah ma è una chest È una chest E la chest ce la dà? Non ce la dà la chest Non ce la dà, ok È quasi notte ragazzi Non ho mai passato una notte qui se non Forse ero morto, non mi ricordo Comunque ragazzi ho trovato le vines Finalmente lo trovate, quindi F Possiamo craftarci la crafting table ma non ci serve Possiamo farci un paio di torce e le facciamo Ne craftiamo Ne craftiamo tre, che dite? Sì, collect item dai Ne craftiamo tre, possono bastare Mi avete detto anche una cosa importante Che mi ha fatto molto piacere Di iniziare magari a tagliare un po' di meno questo stile di video qua Lo volete un pochino come Minecraft Cercherò di tagliarlo stesso un po' Perché personalmente preferisco Non avere troppi intralci Cioè che tipo magari sto zitto Adesso ovviamente non taglio le parti così Però capitemi, capitemi Comunque vediamo cosa possiamo craftarci altro Perché mi avete detto che possiamo craftarci La chest La chest avete detto? La chest Non mi ricordo come si crafta Però non la vedo, non la vedo, non la vedo Cos'è questo? Taking wall Wood mining cell Forse dobbiamo fare questo Ci mancano però i funghetti Ok, io metterei il Il T qua Ok, mettiamo qua il nostro teleporter Perché Credo che sia la cosa migliore Effettivamente sì Ok L'unica cosa ragazzi che non so appunto È come craftare questa chest Quindi scrivetelo voi nei commenti per favore Per favore Ok, andiamo F Questo ha bone Ah, uffa È leather Ovviamente la leather ci serve sempre Però, allora Con calmino Cerchiamo di craftare le cose Magari dobbiamo per forza craftare una crafting table Quindi craftiamola Così siamo a posto Non ci sblocca nient'altro Però collettiamo l'item Allora Coal torch Moss torch Le coal torch Ah, non le possiamo fare perché? Ci serve la wood red Ok, ma io non ho capito una cosa Per spaccare il La Oddio non mi viene in mente il nome Vabbè, non riesco più a dirlo adesso La stone Non so come si fa Perché ragazzi Mi sto cercando di non spoilerare i vari video Nel senso che Voglio evitare Di vedere cose Che non ho voglia poi di vedere Comunque qua abbiamo un altro La wood sword Ce l'abbiamo Cominciamo ad andare in giro Perché dobbiamo trovare sta cosa qua Allora Machine Ok, ci servono i brown mushroom Ok, andiamo alla ricerca di questi brown mushroom Penso che sia la cosa migliore da fare Allora A me sembrava di avere visto cose del genere Nelle vicinanze Però non ne sono sicuro Non ne sono certamente sicuro Qua c'è un'altra crafting Secondo me qua sotto Che cosa è sta cosa qua Oh Oh tab 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 Non riesco a andare indietro Non riesco a andare indietro Ah è sparito Così di colpo è sparito Ok Ma avete detto anche che per Brandere cibo Dobbiamo mangiare i red mushroom Giusto? No se non erro Vediamo un po' Basta fare cinque Eh già Avete ragione Grandissimi ragazzi Grandissimi Grazie dei consigli Fanno sempre comodo i vostri consigli Tanto qua cerchiamo di Non è che si veda moltissimo Ok qua Eh si non si vede assolutamente niente Questa roba qui cos'è? Growing Oh growing mushroom Facciamo tab E non possiamo prenderla però Mmm Non vorrei inoltrarmi troppo sotto Perché sono sicuro Che se no mi Oddio Come non detto Lì vedo qualcosa però eh Abbiamo uno Stoombomb Un Ok magari con queste cose qui Riusciamo a fare qualcosa di interessante Però lì voglio andarci Perché sembrerebbe Esserci qualcosa di Abbastanza Simpatico Vediamo un po' Saliamo Ah è notte È notte È notte Ok Qui abbiamo Growing mushroom Ma non possiamo prendere Torniamo indietro Torniamo indietro Evitiamo di fare danni su danni E torniamo indietro E basta Perché Voglio evitare di perdere Tutta la roba che ho Che già ne ho abbastanza Non ne ho poca Capite che non ne ho poca Ok lì Oh lì c'è un altro Via 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 Cerchiamo di andare via Prima possibile Ok Ok subito via È notte o giorno? È giorno ancora Sembrava notte Sembrava notte Allora Qua andando ci sono altri funghi Vi faccio vedere I funghi li trovate così Molto semplicemente Basta che li prendete Normalmente così E vi fa prendere Ok Ok Alla scoperta di Creativerse Deve essere questo Questo video Perché Non Sinceramente ragazzi Non ne so tante Di questo gioco Però effettivamente Mi piace scoprire Insieme a voi Tante di quelle cose Che magari È bello anche Farlo così No Nel senso che Non Ammazziamo questo qua Intanto F Take all Ok Unica Oh Wow 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 Là ci sono altre chest Ci sono altre chest Ci sono altre chest Ci sono altre chest Prendiamola Gunpowder Abbiamo anche la gunpowder In questo gioco Abbiamo anche la gunpowder Però questi maledetti funghi Secondo me Sono sotterranei Ho questo presentimento Presentimentoso Che ragazzi Facciamo una scaletta Vediamo un attimino Eh però quando incontriamo la roccia È un casino Eh sì Ecco per l'appunto Per l'appunto Per l'appunto Regà Questo qui verde Non l'avevamo mai trovato Se non mi sbaglio Infatti Vediamo cosa ci dà Oh Ci dava le vines Questo qua Quindi pensate voi Poteva ammazzare anche questo qua Ok Figata 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 Ho deciso L'avevo stoppato un attimo ragazzi Perché ho detto Ciao Vediamo vedere qualche crafting In giro Senza fare le Le cazzate In non guardare niente Però ragazzi Ci ho riflettuto E ho detto Ma Secondo me Guardare un video Nel quale Uno già tutto sa Può magari risultare Un pochino brutto Nel senso che è più bello Quando un iscritto interagisce Con 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 lo youtuber No E ho detto Ma io mi farò aiutare Dai miei iscritti Quindi ragazzi Tutte le cose che sapete Scrivetele in descrizione Perché io Nei prossimi video Sicuramente Magari non nel prossimo Perché lo pre-registrerò E faremo ammazzare la casettina Ma nel prossimo Prossimo Faremo Tante cose Cosose che mi avete detto voi Intanto questi qua Io li odio Io li odio Questi qua Eh sono caduto Eh sono caduto Ho poca vita È meglio che mangiamo Ok Vieni qua Brutto schifoso Brutto schifoso Devi morire Ok Mi ho fatto a beccarmi Impossibile Oh Abbiamo ammazzato benissimo Certo Rockstar Rock Mud Mud dovrebbe essere fango Tipo Cosa del genere Non sono sicuro Ok 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 Se io salgo di qua Però Non sono sicuro Di trovare cose Cososette Ah uno mi ha detto Anche Adesso non ricordo Il commento Era tipo Marco Non me lo ricordo Mi ha detto Di Cercare nella sabbia Che ci sono degli oggetti Misteriosi Vediamo 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 Io non Non sono sicuro Di questa cosa Perché L'altra volta Eravamo appunto Nella sabbia Ma non avevo visto Niente di che Cioè Capite che Non avevo visto Niente di che O sbaglio Mi sbaglio Però io voglio Ammazzare ancora Questo qua Voglio Voglio sconfiggerlo Voglio vedere se magari Ci danno qualcosa Importante E poi possiamo Chiudere tranquillamente L'episodio Ok Devi morire zio Devi morire Muori Madonna Ma quanto Quanto è forte Questa è più forte Dell'altro Mi sembra Ce la fai a morire O Ok Ci ha dato Ma Tante cose Cosose Vediamo un attimino Se facciamo T Andiamo in marci Teleport Ho fatto T Teleport Ok Non mi sembra Così difficile Non mi sembra Così difficile Ok Ok Sicuramente Con la Con l'extractor Ci dà le doppie cose Effettivamente Non È anche ovvio Come cosa Non c'avevo neanche pensato Sinceramente Sinceramente Non c'avevo neanche pensato Ok Siamo qua Se io faccio Adesso F Abbiamo dei crafting Nuovi Che possiamo fare Non abbiamo niente Non abbiamo Assolutamente Niente Ok Io vorrei capire Un attimino Ah Shad Shredder Leaves Ci servono Questo Bash Mushroom Non so Dove lo trovo Qua ci sono tante Di quelle cose Che Ah la bomba Qui l'abbiamo pure Trovata Peraltro E Facciamo una cosa Abbiamo questa bomba qua Andiamo vicino Un attimino Ecco Ha della A queste cose qua Voglio vedere se funziona Non ha fatto niente Cioè non ha fatto assolutamente niente Vabbè Comunque ragazzi Direi che per questo episodio Può essere tutto Così almeno Nei prossimi video Mi date voi tutti i consigli Da fare E noi ci vediamo In un prossimo video Da Marcia è tutto Bella